Calcio il gubbio impatta in zona Cesarini con la Virtus Verona grazie a un super sbaffo mercato ufficiale difensore Cinaglia si stringe per l'attaccante Sorrentino stasera torna fuori gioco ore 21 TRG Serie B il Perugia sbanca Livorno grazie a IML resta a punteggio pieno mercato praticamente fatta per il ritorno di Falcinelli in Serie D nella prima giornata vince solo il Foligno pari per Cannare e Trestina fonda il Bastia Buonasera bene ritrovate l'appuntamento con l'informazione sportiva calcio in primo piano con il gubbio che nella seconda giornata impatta 2 a 2 al Barbetti con la Virtus Verona grazie alla doppietta di uno sbaffo formato gigante capace di firmare il definitivo pari in pieno recupero stasera alle 22 chiude il calcio mercato con il gubbio che nel pomeriggio ha già ufficializzato il difensore classe 1994 Davide Cinaglia proveniente dal Novara è firmato con un biennale il DS Pannacci inoltre stringe per l'arrivo del centravanti Lorenzo Sorrentino classe 1995 di proprietà della Juve Stabia trattativa che potrebbe sbloccarsi definitivamente al fotofinish tutti i dettagli stasera nel salotto sportivo di fuorigioco che torna come ogni lunedì alle ore 21 su TRG nel sommario anche un collegamento telefonico con lo stesso Pannacci per trarre un bilancio del mercato ospite in studio Capitana Malaccari oltre ad una delegazione dell'associazione Leucos in cui si parlerà della notte bianca e del mese dello sport torniamo però a gubbio Virtus Verona per il servizio della partita seconda giornata del girone BDC ed è gubbio contro Virtus Verona per l'esordio in campionato del rosso-blu al Barbetti Guidi conferma il 4-3 con Zanellati, Lacti e Manconi titolari Fresco opta per il 4-3-1-2 Dante e Box c'è da Silva sulla tre quarti a sostegno di Odogbu e Magrassi all'ottavo da rimessa laterale Odogbu per Magrassi conclusione alle stelle al ventiduesimo Cesaretti riceve al limite contro le calcia Giacome il blocca centralmente un minuto dopo De Silvestro tocca a Rimorchio per Malaccari Mancino dal limite destinato all'angolo lontano su cui è decisivo l'intercetto di Inze trentanovesimo minuto da Silva pesca in profondità Odogbu la difesa e gubbina sale e copre con tempi errati controllo perfetto dell'ex Arzignano e Alto Vicentino con il petto e bordata Mancina di prima intenzione appena dentro l'area sfera che si insacca all'incrocio imparabile per Zanellati Virtus Verona avanti al Barbetti grazie alla seconda rete in due partite del numero 9 Italo-Nigeriano due minuti dopo il gubbio reagisce grazie ad un assolo di Cesaretti che salta avversari in serie ed al limite prova a piazzare la sfera all'angolino pallone di un soffio fuori e fino al primo tempo ancora un tarantolato Cesaretti manda al bar tre avversari scambio corto con Manconi e 1-2 chiuso ancora dall'ex Paganese ma la sua conclusione viene respinta ad un reattivo Giacome il si chiudono con i veronesi avanti i primi 45 minuti di partita e nella ripresa dopo 5 minuti Manconi va in pressione su un Zè sfilandogli palla dinanzi l'area e batte Giacome il in uscita ma è tutto fermo per interventi irregolari dell'ex Trapani a Novara passano due minuti ma l'accari sull'auto di destra tocca all'indietro per l'acti crosta centrale dove sbuca la testa di sbaffo che si inserisce con tempi perfetti e schiaccia verso la porta la sfera impatta sul terreno dinanzi a Giacome il che si distende ma può solo osservare il pallone infilarsi all'angolino pareggio rosso-blu e prima marcatura in maglia gubbio per il numero 10 ex Albino Leffe 57esimo minuto corner calciato da Manconi salta indisturbato con Ate ma il suo colpo di testa è centrale e viene bloccato da Giacome il al 60esimo altra fitta trama di fraseggio e gubbini sino al limite dell'area dove Manconi cerchi il taglio di De Silvestro che dopo una leggera deviazione aerea di Casarotto calce di sinistro di prima intenzione pallone sul palo a Giacome il battuto quindi De Silvestro esce per battista ma il gubbio prosegue il forcing al 65esimo l'onnipresente sbaffo ispira l'acti il cui diagonale termina lato al 72esimo esce dal guscio la Virtus approfittando degli spazi aperti in contropiede Manarin riceve dal limite da Odogbu controlle calciurato Terramancino zanellati fidistende e devia in corner dentro Mugnoz e Tavernelli per Guidi che poi manda in campo anche Bangu e Meli 88esimo minuto sponda aerea di Manarin profonda verso Odogbu che prende il tempo ad un distratto con a te e ripete alla perfezione quanto visto a fine primo tempo controllo con il petto e Mancino chirurgico ad anticipare la chiusura di Bacchetti e battere per la seconda volta zanellati un vero e proprio déjà vu per l'attaccante veronese che riporta avanti i suoi nel momento topico del match siglando la terza rete in due partite il gubbio assapora così un'altra beffa dopo quella di Trieste ma per fortuna c'è Alessandro Sbaffo in campo in maglia rosso-blu 91esimo minuto il numero 10 riceve da Mugnoz ai 20 metri con un controllo in virata manda fuori Gd Rossi spostandosi la sfera sul Mancino ed al limite dell'area estrae una conclusione fantastica che si insacca appena sotto l'incrocio dei pali rendendo ancora vano il tuffo di Giacomel 2-2 e doppietta Piesbaffo senza dubbio l'uomo in più dal punto di vista tecnico-tattico per Guidi il gubbio evita così nel recupero il secondo K.O. in due partite e muove la classifica in una partita dominata dal punto di vista del gioco ma dove ancora una volta gli errori vengono pagati a caro prezzo domenica prossima sempre alle 15 trasferta Veneta a domicilio della matricola Arzignano Nelle altre partite della seconda giornata del girone BDC vittoria tennistica del Padova sul Fano e i patavini restano a punteggio pieno assieme al Carpi che nel recupero espugna 3-2 il campo del Suttirol impatta nel recupero anche la Feral Pissalò in casa contro il Rimini 0-0 tra San Benedettese e Triestina e Dimolese e Arzignano e sul Talvicenza contro la Fermana nell'anticipo successo in zona Cesarini anche per il Piacenza nel derby con il Modena stasera alle 20.45 c'è Cesena Bispetas Pesaro nel girone C la Ternana batte 1-0 il Potenza grazie ad un Eurogol di Russo e resta a punteggio pieno dopo due turni in Serie B è un Perugia cinico diligente e solido quello che esce vittorioso dall'Armando Picchi di Livorno conquistando di misura la prima vittoria esterna stagionale le firme sono due quella di Bomberi e Mello che segna di rapina nella ripresa su un errore difensivo De Granata e poi quella di Vicario che blinda la porta dei Grifoni parando un rigore all'ex Mazzeo nel finale e dal mercato ultime ore febbrili con il ritorno del figlio al prodico Falcinelli in arrivo dal Bologna e già in bianco-rosso nel 2014-2015 quando si glò 14 reti in 38 partite in Serie D prima giornata vince il Foligno 1-0 con Sandonato Tavarnelle grazie al decisivo gol di Peluso nel finale di partita i Falchetti sono l'unica squadra ad esultare il Cannara di fatti va avanti 1-0 con lo Scandici grazie a Del Sante ma viene ripresa sull'1-1 da Ferretti idem per il Trestina che passa in vantaggio con un rigore di Belli ma Ciolli impatta De Bacl invece per il Bastia ha surclassato 1-5 al comunale dall'Aglianese e per i bianco-rossi rete della bandiera di Giglio dal dischetto in eccellenza Coppa Italia Attiferno Ducate Ponte Valleceppi volano in semifinale Orvietana qualificata in caso di vittoria nel recupero di mercoledì contro la Narnese in promozione invece fra le qualificate c'è anche il Branca che al termine di un match al Cardiopalma batte 4-3 il Petrignano alla Santa Barbara ed accede ai quarti della competizione complice anche il pari per 1-1 del Piccione con l'Atletic Club Bastia decisiva la doppietta di Bellucci con gol decisivo a 3 minuti dalla fine in rete anche Alessandro e Marco Gaggiotti per gli Eugubini è tutto vi lascio come abbiamo detto alle ore 21 a fuori gioco il salotto sportivo di TRG che da questa sera torna per voi tutti i lunedì grazie per averci seguito a voi una buona serata grazie per la visione